Guardate che meraviglia questo punto luce a stella completamente ricoperto di diamanti, 3,10 grammi per quest'oro bianco con catena in oro bianco di 18 carati, il totale dei diamanti con taglio brillante più di mezzo carato perché stiamo parlando di un 54 punti. Un punto luce rivisitato con questa forma di fiore particolare e originale.